Allora Marco siamo alla vigilia di un impegno sportivo importante come la Coppa Italia Eccellenza voi la onorerete come avete fatto sempre sportivamente parlando ecco intanto volevo chiederti alla vigilia di questa partita le sensazioni, le emozioni se ci sono e poi le prospettive di questa gara Le emozioni sempre perché comunque si tratta dell'inizio di una nuova stagione per cui l'emozione è giusta e equilibrata ma è sempre presente la voglia pure, le impressioni credo positive perché è una squadra che sta lavorando con me dall'1 di agosto è vero con tante difficoltà perché ancora oggi non siamo al completo però sta crescendo di giorno in giorno quindi diciamo che le prospettive anche penso che siano buone Domani si inizia con il Belpasso, una squadra che ne ho promossa, ha fatto bene l'anno scorso anzi direi benissimo più che altro perché ha vinto anche la Coppa e quindi diciamo che l'esperienza di Coppa la conosce bene Sì sì ma tra le altre cose credo che una squadra come il Belpasso dove c'è tanto entusiasmo in questo momento, in quell'ambiente dato che hanno vinto la Coppa Italia e quindi hanno raggiunto anche l'eccellenza credo che sia un impegno difficile soprattutto appunto per l'entusiasmo che c'è all'interno di quel contesto, di quell'ambiente Peccato che si giochi a porte chiuse Peccato, ogni anno si registra sempre la solita situazione in alcuni campi e quello che mi auguro è che veramente in maniera definitiva si possano sistemare tutte queste cose perché è un peccato impedire anche ai tifosi nostri e allo Scordia di non venire ad incitare la squadra per cui voglio dire è una situazione che purtroppo ogni anno si verifica e si continua a verificare in tanti campi e secondo me non fa bene un po' a tutto l'ambiente calcio E allora visto che inizia questa stagione facciamo i migliori in bocca al lupo a tutti gli sportivi e soprattutto insomma che vinca sempre il migliore in campo Assolutamente sì, che vinca il migliore, mi auguro che sia un bel campionato sotto il profilo calcistico ma di grande fair play, di grande rispetto fra tutti e poi che vinca il migliore naturalmente E soprattutto con la mente rivolta al centro Italia che in questo momento sta soffrendo Sì, è la cosa che mi fa più piacere in assoluto è aver visto che si è mobilitata tutto lo Scordia tramite la pagina, il sito della nostra società E credo che il calcio sia un grande volano, un grande tramite anche per questo tipo di avvenimenti e di episodi per cui noi dobbiamo contribuire e dico bravo allo Scordia in quanto società perché credo che stia facendo anche sotto questo profilo anche con la convenzione insieme alla Croce Rossa ma credo che il calcio debba servire anche da traino per tutte queste attività Il tuo presidente ti seguirà da casa, costretto a rimanere con le stampelle? Sì, però il presidente l'ho sentito telefonicamente A me quello che piace del presidente è che è una persona davvero equilibrata Pochi nel calcio come lui perché, ripeto, lo vivono con grande oculatezza e lo vivono con grande equilibrio però ha grandi ambizioni, è una persona che nella sua vita si è fatta da solo per cui poi queste sono le persone che solitamente raggiungono sempre gli obiettivi che si prefissano e speriamo che riesca a trasferire queste cose anche allo Scordia Calcio